usiamo ferromosa fino a quando non viene bannato mi sa che il prossimo ho fatto dimmi un po caso vediamo non ho tipo counter di roshifu ecco devo indebolire le fable e forse poi farà qualcosa famosa che darò con questo e terrò frana perché abbiamo questa mossa in credito subito flinch magari a arricchi in questo coso incredibile ti ero faranno di nuovo e lo flincero ax era fincola prima o poi sto cosa no tipo ora perfetto e ti fa fare ok zarude uno contro uno su zabbos facilissimo questa cosa che adesso da dosa sempre tifone mi curva questo non ho scambi quindi credo lo indebolirò ok bravissimo in questo team ho messo male metal a casissimo perché volevo un che facesse danni però potrebbe diventare qualcos'altro c'è l'acciaio ce l'abbiamo già in itra ecco qua vedo molto bene però ma vedo l'idolizza rude ok non so cosa potrebbe mai essere sto dragapult ma qualora fosse spex io torno giustamente ok comando usci fu per cui abbiamo già stabilito di non avere dei counter ma è un po un problema questo poco ma andrò di lava ok bene bene andrei quasi quasi di lele sul cc e invece non l'ho fatto è un contro sto coso che cazzo devo fare io allora muovalo di zarude e tiro power whip e va di moltres emisso ma forse inculiamo molte adesso ok a noi questa cosa va più che bene ok entratto oxapex sti cazzi servono una resista a brucivo probabilmente nel team si è un pochino e dovrò di foggare andrò di t punch lui arrocchi ovviamente non mi brucia incredibile ok tiro t punch ancora in teoria con moltres indebolito io posso vincere con fermosa qua defolgo lui va di draco meteor poi io scambio metto zarude ok mi paralizza ma non me ne frego jungle healing se mette moltres sulla mia paralisi è un problema se tiro jungle healing no ok qua tiro power whip perché questo vorrei indebolirlo 62 buono lui mi tira pijab io qua lo vado di fermosa e tirerei quaver quasi quasi no forse non è il play però lo faccio lui potrebbe volerlo tenere lo shifu ok bene qua vado di shockwave e un andato e mi becco lo special attack boost chissà quanto prende spectrier da un shadow vediamo spectrier da cioè non le shadow ball da ice beam 252 modest life form ice beam a più due kill i calcoli dice questo kill dicono questo kill le ho fatti giusti no? sì vediamo se è vero ferromosa è un po' rotto pensate ho letteralmente sacrificato tutto pur di farlo entrare in condizioni favorevoli ho indebolito l'uccello e in teoria ora può vincere l'unica forse è sucker di un shifu ma non credo nemmeno lo abbia a sto punto qua io ho zuffa perchè qui non si mistra niente ok un altro special attack boost questo è morto ti 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 ti! l'uno e le duecentotriente al caso speciale non è poi così male teoria incredibile in una sucker ok beh comunque dietro con l'elelando dovevo essere a posto credo terramoto su tutta no Ok, ok Melmetal cosa potrebbe essere? Tipo io sono debola a Ferromosa o a Shifu potrei rendere un Buzzwall Non lo so, per ora terremo Melmetal Tanto sto team verrà bannato perché verrà bannato Ferromosa Proviamo ad usare il fratello grosso di Ferromosa, Buzzwall Questo qua però è Life Orb Shackle, Buzzwall, Spectrear Subcalmind per battere Blissey con Shadow Ball Ah, Nidoking, B-Sherp e Random Eternity Questo team è un po' strano Gastrodon? Il team dell'avversario mi fa paurina Tant'è che comincerò con B-Sherp Ok Qua Danzo Sul Rifless Qua Danzo Non ha preso niente F is Death Cioè io ero a più due Black Glass, Fisco Rifless Mi sa che è F is Death Secondo me è pure più lento di Nidoking Ok, era difensivo, bulking Beh, perdere B-Sherp così non è il massimo Però non è nemmeno chissà quanto tragico in realtà Ora lui dovrebbe aver paura a mettere tipo tutto Ma Gastrodon in realtà entra abbastanza safe Ah, lui mette questo Tirò Sludge Wave Ok Adesso metto Shaco Questo dovrebbe impedire setup vari Perché se lui tira una mossa di setup io tiro ancora a questi cazzi Perfetto Mi setto le rocce E direi che qua tiro ancora Ok L'ho incorato in cascata Quindi posso andare di starmi e mantenere un sac Ho Fulmine Ma lui è un Gastron Quindi tirerò psichico Ok, non ha fatto nulla Ora tiro Fulmine Non è morto Vada Poco male E lui è più veloce di Buzzsaw Io adesso vado di Spectre Ma questo non fa altro che regalo Ah, forse dovevo andare di Nido King È più veloce, cazzo Ok Ora lui entra con sto coso qua Ma io salvo Ah, mi dispiace molto Cioè in realtà godo Non pensavo sarebbe successo questo Però è successo Non ci avevo manco pensato a Thunderwave Però mi è andata bene L'esperto di Blastoise Cioè io questo gli tiro Shadow Ball e basta Ah, ok Oggi sono molto fortunato Incredibile Gli chiederò scusa Perché sono educato Bene, mi sono già rotto il cazzo di giocare Quindi Finito il video Magari prossimamente ne fammo un altro Ecco Ciao Ciao Grazie a tutti.